noi ex ragazzini ormai quasi vintage siamo dei sopravvissuti perché se adesso c'è un'attenzione quasi maniacale per tutto quello che si mangia tutto deve essere bio 5 porzioni di frutta e verdura al giorno attenzione alle calorie una volta 30 anni fa non era così manco per sogno molte cose sono rimaste anche adesso vabbè che siamo vecchi ma non ancora da patrimonio dell'umanità una volta però le cose erano come dire più porche e non perché eravamo piccini e ci sembravano più grandi più buone erano fisicamente più porche volete la prova e non ci credete ecco qua la foto quello che vedete è uno yo yo motta fotografato un paio di giorni fa dal sottoscritto dopo che l'ha acquistato al supermercato a fianco c'è una tazzina del caffè escludo negli anni 80 di aver fatto merenda con uno yo yo grande poco più di un biscotto ok nel multipacco le cose sono più piccole ma vi ho addio questo qui mi si è incastrato tra i denti e manco sentito il sapore visto che per ognuno le esperienze sono diverse ecco che riporto la mia esperienza personale in tema di schifezze gastronomiche degli anni 80 la colazione per gli amanti del cioccolato solubile si faceva ancora con il sempiterno nesquic dentro c'era ai tempi però un giochino che si illuminava oppure si muoveva a molla c'era anche lo sprint con il tappo rosso blu a seconda se era al malto o al cacao e dentro c'erano anche gli adesivi di crimi oppure l'orzo bimbo bim bum bam con i personaggi che nella pubblicità litigavano con gramigna la strega maligna generose cucchiaiate che scomparivano in ettolitri di latte spesso contenuti nei bellissimi cocci del mulino bianco in esso negavano biscotti di tutti i tipi ancora il mulino bianco quando non c'era banderas gli oro saiva che venivano mangiati cinque assieme oppure gli zalet della galbusera con il mago g che nella pubblicità diceva chiudi gli occhi apri la bocca le merende erano popolate da un inquietante pane burro e zucchero che mi dava sempre mio nonno che ha sfaldato in questo modo la mia già precaria forma fisica anche se sferico è pur sempre una forma altrimenti largo alle merendine sono quelle di oggi anche se oggi il tegolino del mulino bianco è una specie di striscetta insulsa che varrebbe venire la depressione chiunque 30 anni fa era un bel quadratone e poi via di saccottini di soldini dove c'era la filosofia imprescindibile prima si mangia tutto il resto con il soldone di cioccolato che deve rimanere per ultimo tutte le merendine del mulino bianco comprese crostatine croassane via dicendo contenevano le mitiche scatolette dei fiammiferi con le sorpresine e tutti speravano di trovare le gommine a forma di merendo biscotti che avevano un odore inconfondibile non sapevano di dolce ma di sorpresina in più avevamo un eroe nazionale il piccolo mugnaio della reclam che cercava di conquistare la bella bella clementina ma andava sempre in bianco come il mulino dal resto sporadicamente non si disdegnavano nemmeno le merendine motta la mitica girella con la pubblicità di toro farcito e il golosastro oppure il bondi o infine le mister day della parmalat dove c'erano in omaggio gli animaletti morbidosi che collezionavo furia di scofanarmi confezioni da otto di ciambelle sì in effetti non era del nonno la colpa della mia sfericità per idratarci visto che l'acqua era una cosa troppo banale anche se c'era chi la vivacizzava con la frizzina o la cristallina bevevamo cose misteriose tra cui il billy una specie di finta aranciata in un parallelepipedo con su un arancio ridarolo e i più fighi avevano pure la cintura qui attaccarlo poi arrivò anche quella lamele fu un disastro ovviamente già allora comunque ero un cultore e un adoratore dell'estate tra le altre cibarie più o meno misteriose il cioccorio il biancorì ai tempi c'era una sigla in rima tipo compagni roditori che fatica pedalare mi devo sgranocchiare un dolce ciocorì c'erano anche i biscotti wow con snoopy che insegnava l'inglese e la prima parola imparata dal sottoscritto non è stata home oppure book ma clothes nuvole c'era poi il twix che ai tempi si chiamava rider e tanto di pubblicità che informava del cambio epocale ma una delle cose che ricordiamo maggiormente riguardo a questi biscotti ricoperti è io non ho mai provato urrà e voi che schifezze cioè che le cornie mangiavate 30 anni fa scrivetele qui sotto se volete scrivetevi anche la pagina facebook come è indicato nell'info box cliccate mi piace scrivetevi al canale fatemi un bonifico regalatemi un atollo quello che volete